Sono padre Stefano Moino della diocese di Treviso, Fideidono. In questi anni di missione sono stato nel Brasile, nel nord del Brasile, nell'Amazzonia, a Manaus, per quasi otto anni. È stata un'esperienza molto importante per la mia vita, un regalo di Dio per la mia vita come uomo e come prete. Sono tornato un po' rapidamente in queste ultime settimane perché nel vivere insieme con la gente, condividendo la loro vita, condividendo il loro vissuto, c'è a volte un po' l'imprevisto. In queste giornate, in queste settimane ho ricevuto una minaccia di morte da un trafficante, un trafficante importante. E verificando con la polizia, verificando con i vescovi del posto, del luogo, della diocesi, non abbiamo avuto scelte, altre scelte che quella di fuggire via, di scappare via, per proteggermi, ma per proteggere anche la mia gente. Porto nel cuore la bellezza, non questi ultimi 15 giorni, ma la bellezza di questa esperienza. La loro voglia, la voglia di vita di questi fratelli e sorelle, la loro esperienza di fede vissuta, sudata, ce l'hanno dentro il cuore, ce l'hanno dentro il sangue, dico io. E questo non lo potrò mai dimenticare. Loro davvero hanno uno sguardo della vita con tutte le loro sfide, a volte molto pesanti, fin da piccolini, ma hanno un guardare Dio che sempre li accompagna, li illumina, è dal suo lato, dal lato di loro, per proteggerli. E questa è la bellezza che porto. Porto anche la bellezza della voglia di vivere e di non arrendersi. Nella favela dove abitavo la zona era un poco pericolosa, diciamo così, ma come tanti altri in tanti luoghi del mondo, ma loro quando avevano qualche possibilità di rialzarsi lo facevano con tutte le loro forze, con tutto il loro crederci profondo, recuperando la vita, non fermandosi negli errori, non fermandosi nelle cose che ostacolavano il loro cammino, ma guardando con speranza quello che loro potevano costruire di migliore per loro e per le comunità e per gli altri fratelli e sorelle. E l'ultima cosa che porto nel cuore è questa bellezza della condivisione. Loro, come sempre noi diciamo a volte missionari, regalano cose profonde alla nostra vita e probabilmente qualcosina anche noi l'abbiamo condiviso con loro. L'amicizia che rimane al di là dei luoghi, degli orizzonti, al di là dei confini. Sono regali reciproci che l'esperienza della missione lascia nel cuore delle persone e ha lasciato nel mio cuore.